Nulla di fatto per il processo, per il voto di Scambio Light, che vede coinvolte sette persone tra amministratori ed ex amministratori di Diano Marina e imprenditori. Si tratta del sindaco Giacomo Chiappori, del suo vice Cristiano Zagaribaldi, degli ex assessori Francesco Bregoline e Bruno Manitta, dell'amministratore unico di GM Domenico Surace, del padre di quest'ultimo Giovanni e dell'imprenditore Giovanni Sciglitano. L'udienza in programma questa mattina presso il Tribunale d'Imperia è stata infatti rinviata al 24 novembre, quando si terrà l'apertura del dibattimento. Sempre oggi era in programma l'udienza a carico dell'ex assessore di Diano Marina, Bruno Manitta, accusato di peculato, abuso d'ufficio e falso. Ma anche in questo caso è stato un rinvio al 19 gennaio.